Preparo con me i sospiri sardi, dolcetti a base di mandorle, senza farina, uova e latticini. Inizio a frullare 150 g di mandorle, riducendoli in farina. Porto a bollore 30 ml di acqua e 100 g di zucchero e aggiungo le mandorle tritate. Continuando a mescolare e abbassando la temperatura, aggiungo la scorza di limone e 10 g di aroma di mandorle. Lascio cuocere per qualche minuto, o fino a quando tutti i liquidi sono evaporati. Lascio intiepidire l'impasto e inizio a formare delle palline che poi appiattisco leggermente con un dito. Cuocio i dolcetti in forno preriscaldato a 120 gradi per circa 5 minuti, in modo che si asciughino per bene. Mentre raffreddano, preparo la glassa con 40 ml di acqua e 200 g di zucchero a velo. Cuoccio la glassa a fiamma bassa per qualche minuto, per farla addensare. Quando i dolcetti sono freddi, li passo nella glassa ricoprendoli completamente. E ripeto questa operazione per ben due volte. Lascio asciugare per qualche minuto prima di servirli. Ciao! Grazie a tutti.